Una valle ricca di cultura, di storia e di innovazione. Questo parco deve dare la risposta a questo declino che purtroppo ha colpito questa meravigliosa valle del Taro e del Ceno in questi ultimi anni. Un parco è una risposta, una rinascita. Noi ci crediamo e ci vogliamo credere. È un investimento, un'occasione, una sfida, ma soprattutto una valle piena di possibilità. Questo deve essere la nostra valle del Taro e del Ceno. Una valle che può accogliere e deve accogliere questa sfida. Il parco avventura Lupo Rosso è un investimento, un'occasione e ripeto una sfida. Noi ci crediamo e siamo pronti a realizzarlo. Un comitato, un'associazione è già nata, promotore di quanto avverrà. Noi ci crediamo e tu?